questo è il quartiere generale dei bimbi gamers guardi i loro computer, i loro orrende sedie dai bambini adesso sa dove lavorano e dove si trovano e presto distruggerò tutto dove sono questi loro computer per farmi video bruttissimi non ci sono qui sono riuscita a trovarli grazie ai miei ma riuscirò anche a spegnere questi loro computeracci ah, per chi non lo sapesse io sono scolta bimbi ah, 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 ah e non sopporto i bambini che fanno video su youtube perché? direte voi perché? ma perché non parlano mai di me degli uccelli come me che hanno un bel becco mmm va bene ciao vi saluto ciao grazie a tutti